Vogue 2016, metà strada, cosa ho imparato fino adesso? Allora, rispetto all'anno scorso ho imparato a registrare il blog facendo il morto senza rischiare di annegare in realtà è anche dovuto al fatto che quest'anno c'è meno vento dell'anno scorso quindi sono in grado di stare a mollo senza rischiare di beccarmi un'onda in faccia a parte questo, sicuramente ho confermato quello che avevo già scoperto l'anno scorso cioè che sono abbastanza testardo da riuscire a completare la maratona solo perché me lo sono posto come obiettivo e comunque è in ogni caso un gioco interessante, l'ho sempre detto, è un modo simpatico di mettersi in gioco è un modo simpatico di creare un pochino di movimento su YouTube quando c'è un pochino di calma nel periodo estivo e comunque sino ad ora mi sto anche divertendo quindi mi auguro che se stai partecipando anche tu ti stia divertendo e infatti ti chiedo, tu stai partecipando alla maratona a voga? se sì, fammelo sapere con un commento bene, io sono Grizzly, sono a Marzamemi, mi sto pigliando il fresco dell'acqua di mare che ogni tanto ci vuole e quindi noi ci vediamo domani con il prossimo vlog, ciao! ciao!